Ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Come vedete è uscito l'aggiornamento su Brawl Stars. Ve lo volevo dire, sono molto contenta di questo aggiornamento specialmente per i punti stellari. Faccio auguri a un mio amico perché ha raggiunto i 200 iscritti e si chiama AndyGamerOfficiale, andatelo tutti a seguire. Questo è tutto, ciao Potenziamo Nita, scrivetelo nei commenti se dobbiamo potenziare Nita oppure se andiamo a potenziare Jessie. Jessie sta qui, ecco livello 8. Scrivetelo nei commenti. Ciao a tutti.